Ecco Gennaro che si è appresa a catturare Charmander, riuscirà nell'impresa? Scopriremo quando ritornerà, speriamo bene. Vai Gennaro, vai che ce la fai a prendere Charmander il tuo Pokémon preferito. A da poco ragazzi. Ragazzi attendiamo Gennaro che viene, vediamo se riusciamo a vedere. Speriamo nella sua impresa, da qui non si vede niente. Speriamo. Stava piangendo dalla contentezza. Vai Gennaro, sei tutti noi. Ragazzi aspettiamo con ansia questo avvenimento molto importante di Charmander, a tra poco. Eccoci ragazzi, Gennaro è tornato, cosa è successo? E se ne è fiuta. Ma allora, Maria. No, non c'è più in merda. No. C'è una colonna, ma come è possibile? Ti ha aggiunto il debak, 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 il debak. Sì, dovevo uscire per arrivare. Mi spiace. Sono studiato per Charmander. E Charmander è detto, Ragazzi, mi spiace ma è andata a buon fine. Ma è una cosa impossibile. Cioè, io voglio far vedere, no, io voglio far vedere perché poi uno c'è creare. No, voglio far vedere proprio. Guardate. Vai, aspettate, perché non si capisci niente. Sta troppo esaurito. Troppo esaurito, sì, perché questo è già un seconde che se ne fu. Guardate qua, ecco, me lo faccio vedere senza che vi facciamo la registrazione dello schermo. in modo tale che almeno facciamo passare le persone che stanno passando. io vi voglio far vedere, aspettate, diario. E' proprio appunto. E' proprio appunto. C'è nulla e niente. Charmander è scappato. Mamma mia, questo momento rimarava sempre. Cioè, mi rimasto solo un canne. Un canne mi è rimasto, ah. Un canne. 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 Grazie.